Kamehameha Kaioken per 20 da Super Saiyan Blue, è voluto distruggilo! Ed eccoci ragazzi bentornati su Xenoverse 2, come sempre carico al massimo oggi tante belle nuove mod che scopriremo insieme quindi mi raccomando lasciate ora un like e soprattutto guardate questo video fino alla fine mi raccomando inoltre seguitemi pure su Instagram perché la vi sto aggiornando su tante belle novità in questo periodo di agosto Oh la cara, buona e bella selezione dei personaggi con tante belle nuove mod oggi ragazzi abbiamo nuove mod con nuove trasformazioni, abbiamo ben 3 mod spettacolari il Goku che si guarda le mani veramente furioso e arrabbiato vi ricordo che tutte le mod che vedremo oggi sono appunto delle mod, non sono personaggi base del gioco e possono essere installati solo ed esclusivamente sulla versione PC del gioco se volete installare queste mod anche voi quindi vi lascio Instant Gaming qua sotto in descrizione lì in pratica il gioco è ad un prezzo bassissimo così come tantissimi altri giochi già usciti in preordine link qua sotto, datevi un'occhiata che vi può servire ragazzuoli miei, Vegeta non so perché Goku ci abbia il nome di Vegeta evoluto, che senso c'ha? Scusa non lo so, forse qualche problemino nelle installazioni, non credo e poi qua abbiamo un bel Vegeta Super Saiyan God Evolved con i capelli veramente strani, devo ammetterlo e poi fino alla fine abbiamo un Black Goku con la coda per quale motivo potrebbe avere la coda? scrivetemelo ora nei commenti, non andate avanti nel video perché poi ve lo spoilerate non fate furbacchioni che lo so eh quindi andiamo a vedere sti due bei personaggi andiamo a West City Soborgy lì ragazzi non ci andiamo praticamente mai ma perché? Una bella città? Scusa proviamo, proviamo queste due nuove mod non le ho mai provate, come sempre ragazzi le mod le vedo con voi perché se poi le riprovo dopo che sfizio c'è? voglio vedere effettivamente le aure che le ho dovuto installare io quindi sono aure effettivamente diverse sembra che siano un po' particolari tipo con questi sbrilluccichi che vedete ora a schermo i capelli di Goku, se devo essere sincero, non mi fanno impazzire si muovono quando... sì, non è che sono rigidi, sono mobili, no? però, bah, non saprei proviamo subito a vedere un moveset che è diverso bello! Bam! conclude magari in maniera simile ma il moveset parte in maniera bababam in maniera differente mi piace ci sta questa piccola variazione particolare ah, ve l'ho detto pure in questo video per quanto riguarda gli attacchi pesanti sono in realtà molto brevi sia quelli pesanti che quelli leggeri però sembra che siano molto efficaci molto interessante come cosa ho colpito con un bel pugno sublime che ha distrutto il vigore dell'avversario scuso Vegeta voglio vedere un attimino anche il colpo selvaggio ma questo è di Vegito ragazzi l'abbiamo visto anche negli scorsi video, no? e poi abbiamo il Super Kienzan che non gli sta assolutamente male ad un Goku di questo tipo avrei preferito altre mosse un po' più caratteristiche di un Goku Super Saiyan God però, alla fine ci può stare figo che taglia anche il pavimento peccato che il pavimento si rimargini e non è assolutamente credibile carica raffica questa è una delle cariche che aveva introdotto proprio il Super Saiyan God Vegeta quello di DLC e voglio vedere un attimino quali sono le supreme azza abbiamo pure il Super Saiyan Blue evoluto buono a sapersi tra l'altro guardate quando Goku fa sta mossa è impazzisco è fighissimo cioè quasi guarda le mani a dire ma questo è il mio potere la mia potenza e vediamo un attimo vabbè esplosione dello spirito questa ce l'ha anche il Goku base per dire, no? poi abbiamo una bella Kamehameha teletrasporto che lo prende in pieno e poi attenzione attenzione Kamehameha Kaioken per 20 e vai così sì questa è una mossa bella lunga ricordavo che fosse ancora più lunghetta forse quella è ancora un'altra mossa a meno che non era una roba proprio personalizzata diversa e ragazzi andiamo a vedere col Super Saiyan Blue è voluto vai così ma che spettacolo è bellino ma normalmente sti capelli mica fanno sti movimenti ondelleggianti cioè che ondeggiano ondeggianti mi pare che normalmente i capelli mica sono fatti così cioè sono rigidi magari non so perché mo sta fissa con sti capelli ondeggianti ma cambia il moveset in realtà mi pare di no non riesco a capirlo vedo delle cose un po' diverse ma no 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 mi sembra che il moveset sia quello perché l'ho visto solo un paio di volte quindi non ero abituato esteticamente alla cosuccia il pugno sublime resta quindi non cambia un po' un peccato gli distruggi in ogni caso il vigore colpo selvaggio il Super Kienzan da Super Saiyan Blue è molto bello perché c'è una bella cozzaia di colori tra il blu il giallo il rosso della tunica è una bella foto ci sta bellino bellino veramente a livello di attacco non è che può fare chissà che cosa Kamehameha teletrasporto e poi ovviamente ci si può aggiungere il Kaioken direttamente come se faccio così no ritorna normale chiedo umilmente scusa Goku ma possiamo appunto andare a fare Kamehameha Kaioken per 20 da Super Saiyan Blue è voluto distruggilo mamma mia ragazzi che potere veramente incredibile impressionante vediamo gli stamina break non ho visto le prese talvolta me ne dimentico talvolta me lo ricordo ma quando ce lo ricordiamo scusi ci troviamo facciamolo e voglio adesso andare a vedere questo bel vegeta Super Saiyan God sembra che il moveset sia un bel po' diverso non me lo ricordavo minimamente a meno che non sia quello del vegeta God ma non credo e spero di no guardate che figo bello bello ci sta ci sta qualcosina di già visto c'è però attenzione che mo' è tutto nuovo qua che comunque mi pare ricordi qualcosa è il Super Saiyan God di base però comunque tendenzialmente un po' di schiaffoni li da quindi a noi sicuramente fa piacere ok andiamo di lampo finale preso a volo Goku mamma mia ti abbiamo veramente acchiappato a volo stamina break l'altro stamina break li buttiamo giù vediamo un attimino la presa Goku ripigliati dai non fassi balzelli sperando di cavartela bam buttato a terra carica raffica che è quella che ha anche l'altro Super Saiyan God poi abbiamo un bel montante critico questo mi pare che non è di Vegeta normalmente no non è del Vegeta God che è una roba di Gohan bah non mi ricordo poi abbiamo la Culeia raffica questo è del Vegeta God assolutamente si e poi abbiamo un po' di cosucce lampo sfolgorante quanto mi piace sta mossa non lo so perché ragazzi ma è bellissima veramente bellissima impeto Galic finale e colpisce in pieno l'avversario praticamente l'ha mancato Vegeta ma che si fa lo manchi ti è sfuggito da sotto le grinfie riproviamoci Vegeta meno male ma lo manca ma cos'è che fa allora devo provare a fare una cosa a questo punto recupero com gli devo mettere di no così lui non si recupera e speriamo veramente con tutto il cuore che lo riesco ad acchiappare lo manca no ragazzi allora c'è da capire qual è il problema qua se siete esperti di modelli e robe simili scrivetemelo nei commenti perché non è possibile che non l'acchiappa c'è qualcosa che non va onda esplosiva va benissimo e si va di Super Saiyan Blue evoluto per Vegeta Furioso bello bello esteticamente questo spacca veramente tantissimo bam che foto che andiamo a scattare insieme veramente molto bello e voglio vedere riproviamoci voglio rivederlo questo impeto Galic finale sperando che vada a segno ma niente da fare cioè Wan ce la fa proprio non ci siamo è da capire il perché guarda proprio nel momento giusto proprio quello finale lo manca quindi per ora non riusciamo a fare la suprema se trovate una soluzione scrivetemelo nei commenti ora come ora sto registrando un video non posso perdere 50 minuti per cercare di capire questa cosa però è un peccato ci resto male perché come sapete voglio provare le moda al 100% in ogni caso entrambi i personaggi veramente molto belli Goku sembra un gigante rispetto a Vegeta se devo essere sincero però entrambi spaccano veramente un botto bam anche foto scattata fatemi sapere voi che ne pensate ma non è finita qua ragazzi miei perché abbiamo appunto colui che dovrebbe avere più trasformazioni tra tutti quindi andiamo a scegliere Goku Black andiamo contro non saprei scegliamo un personaggio base non vorrei che questo nemico proprio quel Goku lì abbia problemi ma quante mod che ci ho installate queste sono tutte quelle che avete visto fino ad ora praticamente sul mio canale scegliamo un bel bruli massima potenza che è bello grosso di conseguenza così non dovremmo avere problemi di alcun tipo montagne va andiamo a vedere qua tutte le belle trasformazioni che Goku Black dovrebbe mostrarci e alla coda vediamo se avete indovinato il motivo io so già che trasformazioni ha o almeno credo di saperlo poi dobbiamo vedere ovviamente insieme però so già che una trasformazione la dovrebbe avere che giustifica ovviamente la coda ma vediamo subito il moveset che mi sembra molto bello bellino bellino se devo essere sincero spacca veramente bello andiamo a vedere le combo pesanti queste mi piacciono un attimino meno ma è un mio gusto personalissimo sbam boom due stamina break veramente veloci mi piacciono un botto quando sono belli veloci così il solito balzello che si fa la presa è quella di un Goku praticamente normale e poi abbiamo una carica massima con un'aura oscura veramente bello quando hanno queste aure oscure così e sono ovviamente personaggi malvagi pugnalata dello spirito in questo caso è una mossa di Vegito però per lui ci può stare assalto Kaioken ma veramente per quale motivo mostra cosa c'è il Kaioken di Black Goku che ovviamente è infinito mamma mia non finisce più poi abbiamo il raggio della morte istantaneo in pratica questo è il teletrasporto che viene spesso chiamato anche in questo modo non si capisce perché poi abbiamo il Primal Lasso che effettivamente ragazzi è completamente diverso a livello di estetica rispetto a quello che è il personaggio base poi a livello di mossa non è che cambia tanto Super Black Kamehameha per 10 addirittura c'è una bella variazione da questo punto di vista devo dirlo e poi abbiamo un colpo di rottura per poi arrivare al Super Saiyan 4 Evolved ma voglio capire una cosa fammi scaricare prima l'aura aura scaricata e abbiamo infatti prima il Super Saiyan ecco quindi quella non era la trasformazione finale assolutamente no il moveset è cambiato mi ricorda quello del Goku che abbiamo visto poco fa almeno per certi versi pugnata dello spirito l'assalto Kaioken credo che effettivamente le mosse poi non vadano a cambiare c'è questo Primal Lasso veramente cattivissimo che comunque mi sembra tanta roba voglio andare a caricare un attimino la mia aura arriviamo a 4 tacche totali per ottenere il Super Saiyan 4 di Black Goku ragazzi ma questo proviene un altro po' direttamente da Dragon Ball F fermi tutti ed è molto bello che il personaggio abbia cambiato un moveset e praticamente la spada che ha è quella del Primal Lasso quindi non è quella solita rosa qual è il colore solito della spada di Black Goku veramente spacca un botto molto bello tutto questo si vede che il modder ci ha voluto lavorare un bel po' vicino ci sta la grande peccato che poi tendenzialmente tutte le altre mosse restino quelle un po' dispiace però alla fine dei conti ragazzi ci sta bam un colpo poi interminabile praticamente per quest'avversario e voglio vedere la Super Black Kamehameha in questa forma e poi soprattutto ragazzi voglio capire se il personaggio ha anche altre trasformazioni per fare ciò lo devo portare a 5 tacche totali vediamo 5 tacche di aura e c'è il Super Saiyan 4 evoluto per Black Goku Super Saiyan Rosé fra ma guarda che risata guarda che sorriso bello bello e questo spacca le mosse ah no il moveset non cambia peccato gli avrei dato qualche variazione magari una roba tipo di ultraistinto va un minimo però forse è meglio che ci abbia la spadina va la sua solita spada pugnalata dello spirito assalto Kaioken peccato che poi non vada a cambiare ecco se potessi cambiare qualcosa di queste mod proprio questo guardate sta scena che figata andrei a cambiare quelle che sono le mosse di trasformazione appunto in trasformazione perché delle mod così secondo me mio modesto parere alla fine dei conti se lo meritano voglio vedere anche alla fine la super black kamehameha per 10 ed è comunque tanta roba ragazzuoli queste sono le mod viste oggi fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate molto bello anche questo black goku che aveva un bel po' di trasformazioni tanti altri video delle mod arriveranno a breve qua sul mio canale quindi mi raccomando iscrivetevi ora cliccando qua al centro guardate altri video cliccando qui a destra e sinistra quindi alla prossima ciao ciao